Oggi si festeggia San Biagio, il vescovo e martire vissuto tra il III e il IV secolo, popolarmente invocato per guarire la tosse e tutte le malattie della gola. Biagio, nome che significa balbuziente, era un medico di origine armena, vissuto a Sebaste, città dell'Armenia, appunto oggi chiamata Turchia. Per la santità della sua vita venne scelto come vescovo dalla comunità cristiana della sua città. Accettare questo incarico a quel tempo costituiva un vero onore, ma anche una sicura candidatura al martirio. Secondo la tradizione, per sfuggire alle persecuzioni da parte di Licinio, fu costretto ad allontanarsi da Sebaste e ad andare a vivere in una caverna. Qui Biagio operò numerosi miracoli, guarendo persone ed animali con la semplice imposizione del segno della croce. Ma ben presto il continuo via vai della gente che lo andava a cercare per ricevere un consiglio, ascoltare la sua parola e richiedere il suo aiuto, finì per rivelare il suo nascondiglio. Saranno dei cacciatori a denunciarlo. Si racconta di una donna che possedeva un solo maialino, un lupo glielo aveva rapito e la poveretta disperata ricorre a lui. Il vescovo la rassicura e gli dice non temere, lo riavrai indietro. Infatti, tornata a casa, la donna ritrova la sua bestiola. Quando il governatore si rende conto che Biagio opera numerose conversioni con la fama della sua santità e dei suoi miracoli, decide di arrestarlo. Non avendo egli rinnegato la sua fede, viene imprigionato in attesa della morte, ma anche qui accorrono i suoi devoti. Significativo a questo riguardo è l'episodio della madre che un giorno corre da lui disperata portando il bambino, il bambino che sta soffocando per una spina di pesce in gola. Biagio lo benedice e il bambino guarisce. La donna, in ringraziamento, gli offre una candela per illuminare la notte la sua cella. Da qui ha origine la tradizione di benedire con due ceri incrociati la gola dei fedeli nel giorno della sua festa. Durante la prigionia Biagio fu a lungo percorso ed infine sospeso ad una trave dove con pettini di ferro gli fu scorticata la pelle e lacerate le carni. Dopo un certo periodo è stato gettato in un lago dal quale però miracolosamente ne uscì salvo. In seguito all'arresto di sette donne condannate a morire per aver accolto alcune gocce di sangue dal corpo del santo. Durante il soplizio lo stesso giudice lo fece decapitare. Le raffigurazioni del santo sono legate alle vicende della sua vita e soprattutto ai numerosi miracoli che gli vengono attribuiti. La più nota è quella che associa le insegne episcopali a due ceri incrociati in ricordo del miracolo della guarigione del bambino soffocato dalla spina di pesce. Biagio è patrono tra le tante città di Maratea, la città che ne conserva ancora oggi le reliquie. Secondo la tradizione queste insieme a quelle di San Macario giunsero a Maratea nell'anno 732 quando una nave proveniente da un porto orientale si arenò durante una tempesta presso l'isolotto di San Gianni. Gli abitanti del castello raggiunsero l'imbarcazione per portare soccorso e vi trovarono oltre l'equipaggio le sacre reliquie conservate in un'urna marmorea che fu poi portata in cima ad un monte dove rimase custodita. San Biagio è ricordato dalla chiesa il 3 febbraio giorno in cui subì la decapitazione ma a Maratea la festa patronale si celebra nella seconda domenica di maggio a ricordo del ritrovamento delle sacre reliquie. Il 3 maggio 1941 fu fatta una ricognizione ufficiale per il riconoscimento di quanto contenuto nell'urna il torace, una parte del cranio, un osso di un braccio e anche un femore del santo armeno. La venerazione di Maratea per il santo protettore San Biagio si accrebbe per l'evento miracoloso chiamato della Santa Manna dall'ebraico manku che significa che cos'è. In più di una occasione la statua e le pareti della basilica si ricoprirono copiosamente di un liquido accuso di colore giallastro che veniva raccolto dai fedeli e adoperato con estrema devozione per la cura dei malati in quanto dotato di poteri taumaturgici. Fu Papa Pio IV all'epoca vescovo di Cassano che nel 1563 con un cerimoniale stabilito da un protocollo vecchio di secoli riconobbe il liquido come manna, manna come abbiamo detto. I festeggiamenti durano otto giorni e si aprono il sabato precedente, la prima domenica di maggio, con la processione al castello, processione detta di San Biagio va per la terra. Nel giorno di San Biagio noi chiediamo di benedire tutti noi, di benedire i nostri figli e soprattutto di proteggerci da tutti i mali della gola. O glorioso San Biagio, che con una breve preghiera restituisti la perfetta salute ad un bambino che per una spina di pesce conficcata nella gola stava per emanare l'ultimo respiro, ottieni a noi tutti la grazia di sperimentare l'efficacia della tua protezione in tutte le sofferenze della gola, ma più di tutto di mortificare con la fede pratica dei precetti della Santa Chiesa questo senso che può farmi commettere tanti peccati. E tu con il tuo martirio lasciasti alla Chiesa un'illustre testimonianza della fede, ottienici di conservare questo dono divino e di difendere senza rispetto umano, con le parole e con le opere, la verità della stessa fede, tanto combattuta e denigrata ai nostri giorni. Amen.